Salve a tutti ragazzi, siamo sempre noi del Dr.Scanal. E stiamo commentando, come potete vedere, un deathmatch a squadra in Summit. Allora, Davide, ci puoi dire le classi che usi in questa partita? Allora, sì, c'è un delta cinema. Allora, non so qual è il partito con lo spettro, però ok, il spettro è silenziato. Conta quelli prestigio bro, impossibile, bro e maratona. Ok. Allora, vediamo se si incomincia bene come in ogni nostra partita. No. Non vogliamo subito o no? No, per la finezza. La finezza è grande. Allora, quello che dobbiamo dire, ragazzi, ci siamo presi la webcam nuova. Ok. The Uwebcam. Si chiama Logitech. Webcam Pro. 90.000 o no, non mi ricordo bene. Non mi ricordo bene io. Ma quello che importa è che è PRO. Vediamo anche la telecamera PRO. Rendetevi conto. Allora, ragazzi, voi ce ne pensate del prestigio? Secondo voi è meglio restare a livello 50 con le armi forti e andare al prestigio? Allora, sinceramente, restare a livello 50. Anche se ho armi che sono una bomba. È un buono, gli ho detto. Sì, dopo ti stufi e... È anche bello di cominciare. E dopo vedo... Uh, che culo. C'è scalco. Chiediamo. Adesso ci siamo in fila. Wow. Allora... Questo come mai avevo una pistola in 3D? Di solito, Spaceshop, perché dico il piccino di assalto. Gali. Sì, il piccino di assalto. Gali, le fama. Dopo non so se riusciremo a caricare anche l'altro video. Quello del... L'oggetto ABC. ABC di Level Up Step 90. Dove approfondiamo un po' di cose, diciamo. Con due amici. Tu qua... Trovi due che... Ma è andato giù di bene con una pistola mitraillettrice. Anche io. Anzi, io non ce l'ho proprio. Per me la peste e la pappa 64-8 non mi chiede se meritano. Sì. Allora... O anche... Che mi racconti? Dobbiamo trovare... Sì, lì poi gli stupagli, se non è male. Dobbiamo trovare un bel argomento, cavolo. Dobbiamo trovare un bel argomento da parlare. Dobbiamo fare un live e commentalo. Ah sì. Come potete sapere, il video, così, eccetera. E mi sono ripreso le cuffie, quindi... Lui si è preso le cuffie. E io, invece, ho l'Xbox con le cuffie. E che non li va più online? No, no. La mia gamertag è... X piccola, X grande, spazio, X grande. Va bene, la mettiamo nella descrizione. Ah, adesso si rientra un ciascato. Un bel comando silenziato. Ah, chi è fucilato? Il comando. Com'è il comando? Bellissimo il comando oro. Qua... Qua distrugga l'RTXD. E facendo... C'è un taglio, ha distrutto l'RTXD il nemico. Qui ho chiuso anche il nemico che li posa a fianco. Un po' come disponibile. Quindi ti ho avuto più duecenti, non lo avevamo... Sì, ma io sono neanche un nemico, neanche l'RTXD. Ah sì, noi volevamo sponsorizzare il progetto ACV. Di cui ne facciamo... ACV. Di cui ne facciamo anche parte, credo. Dove praticamente... LEGO, LEGO Last Step 90. Inseriremo il suo canale nella descrizione, ma... Anche io che tutti lo conoscono. Sì, se guardano gameplay, tutti lo conoscono. E allora... E praticamente... E ACV. Ardua via del commentatore. E ABC, hai sbagliato. E vabbè. Quando i trovo tutti avanti... ACV. Grande... Ardua via del commentatore. Poi le serie di opinioni sono ancora come standard. Avevo il QI, sapete. Ma... Allora dopo... Che dire? E praticamente questa ardua via del commentatore è per sviluppare le potenzialità dei giovani piccoli commentatori come noi e altri che vogliono intraprendere questo ruolo tra parentesi lavoro. Perché non la trovo se i cilioni? Dove... Aspettato che non si vede dove lo buco. È più o meno al centro della mappa. Allora, parliamo del ABC. Allora, l'ABC praticamente è un progetto LEGO Last Step. Dove per incoraggiare noi piccoli commentatori... dei commentatori... Praticamente... ...i commentatori che ne hanno i mezzi per incaricare i gameplay. Ecco, come l'aveva accaduto. E praticamente, grazie a questa cosa qua, lui mette dei gameplay non commentati. Acca di, fino ad adesso, mi pare che ne ha messi due. Noi ne avevamo già commentato uno. Però, fa fatica a caricarti. Cioè, LEGO, senza pesa. Ma che cazzo? Ce ne facciamo di 20 minuti di video. Va bene. Va bene, un dettaglio. E dopo ne ha caricato anche uno di Belcompany. Quindi, vogliamo... Un bel applauso a LEGO per questa grande iniziativa che è veramente pazzesca. A me non mi sarebbe mai venuto in mente perché noi non abbiamo neanche i mezzi quindi c'è molto utile. Che dire? Stiamo vincendo. Allora, in là di commentare se non vi siete iscritti al canale vi piace il video. Iscrivetevi subito se no vi picchiamo a sangue col comando. Vi lanciamo. Allora, black groups. Il nostro prossimo video dovrebbe essere la storia di Black groups che è già antischiano. No? C'è la storia di Black groups? Eh, sì, vabbè. Storia di Black groups. Dove ci sarà anche Black groups? Ovviamente. Lo vediamo. Lea, 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 sa. Alcanzare, l'effettuato. Quanto mi emoziono quando faccio questi conti. Veramente, l'adrenalina. Non l'hai fatto, te l'ho fatto io. Sì, mi sono fatto. Lea, me... Vabbè, vittoria. Punteggio di 23.11. E ho di nuovo gameplay. Ciao, ciao, ciao.